a Palermo e a Palermo domani ho un processo. Palermo straordinaria, peraltro sono in camera d'albergo, eccoci qua, perché domani mattina sarò nell'aula bunker dove venivano processati i mafiosi a rispondere dell'accusa di sequestro di persona nei confronti di una nave spagnola che trasportava immigrati e io per aver fatto rispettare la legge italiana, i confini italiani, la dignità italiana, aver svegliato l'Europa, aver interrotto il traffico di esseri umani, aver combattuto gli scafisti e le mafie, aver ridotto gli sbarchi, aver salvato vite, cosa ho vinto? Un processo, un processo. Domani mattina sarò nell'aula bunker, purtroppo non potrò fare un live, però vi aggiornerò sia su Facebook che su Instagram dove venivano, ripeto, mandati all'ergastoli mafiosi e rischio fino a 15 anni di carcere se mi mandano a processo per aver difeso il mio paese. Però qual è il bello? Io cerco sempre di trovare il bello anche nelle situazioni meno belle, è che sono nella splendida Palermo, qua ho una cassata sul tavolino, non so come riesco a girare lo schermo però ve la voglio far vedere alla faccia della dieta, eccola qua, cassata e sudoku, pronti per l'utilizzo ma soprattutto fuori c'è il profumo e la musica del mare, delle onde del mare, è tutto buio, non penso che riusciate a vedere o sentire molto però se siete in montagna, se c'è in città, siete in pianura, ecco io vedo una cosa straordinaria, provo a farvi capire il bello delle onde del mare che si stanno infrangendo sugli scogli dietro di me e poi c'è Mondello, le luci della splendida Palermo e dietro il mare, il mare, che bello, che bello poter pensare a un'estate italiana.